Salve a tutti ragazzi qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Tales of the Steer Ragazzi andiamo avanti con la storia perché dobbiamo andare nella prossima città del gioco Quindi andiamo subito al ponte, quello che era distrutto, per vedere come vanno i lavori Ok ragazzi eccoci qua finalmente dal ponte, andiamo a vedere cosa è successo E' un rappresentante di Marland, la città di l'altra parte del gioco Lord Soray, ho sento che tu avessi potuto stoppare la rampa del spirito del gioco Non potrei potremmo te ringraziare Oh grazie, era niente Ehi Mr. Nath, c'era qualcosa che volevi discutere con me? Ah, beh, vedete Grazie a i vostri eroici esforzi in mettere un stoppare al spirito del gioco Le correnti sono calmo molto calmo, e dovremmo essere potremmo riparare la ponte Ma sono scoperto, che è ancora più tardi Ho dovuto fare la scoperta e portare questa medicina a tutti i costi Ah, vedete, allora... Sorayne No, scoperto E' vero, è vero per me chiedere di voi solo perché sei il gioco E' vero, se c'è qualcosa che posso fare con me anche, sono davvero scoperto He's a good man, he hasn't forgotten his sense of gratitude to the Seraphim E' vero, in una scoperta che non può causare le persone a scegliere molto sulle E' vero, se potremmo potremmo riparare la scoperta E' vero, se potremmo riparare la scoperta Ok ragazzi Nuovi problemi in vista Perché sono sicuro che in quella montagna Ci sarà un dungeon E soprattutto Sarà un po' difficile Me lo aspetto Dopo la battaglia al castello Sono già pronto a combattimenti difficili Andiamo da Alicia ragazzi Sentiamo un po' Hai un momento? Dai Parla Ok Ah ok Parlava con l'altro Ok ma Cosa Qual è il problema? Ah ok Che abbiamo trovato Un modo Ci possiamo provare Ok quindi Possiamo andare Possiamo andare alla montagna Ragazzi Ok Oh No Però siamo in tre dopo Vabbè Ok Quindi possiamo andare Possiamo andare Ma Alicia rimane qua Va bene Fai tutto il necessario È l'unica cosa Ok Sì Ti consiglio di stare lontano Dalla vetta Ok 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 Draghi Ok Compaiono sempre di più i draghi Interessante Forse è falso Forse è falso La leggenda degli otto serpenti That's the legend Found in every culture Of the eight dragons Who betrayed the seraphim And were banished To the underworld Wow Gli inferi pure Ok Uno di quei draghi Vive ancora sulla vetta Ah Ok Capito Sarà difficile Probabilmente Come ho già detto Anche quella vero Va bene Andiamo Andiamo contro il pericolo Che bello Ok Andiamo Sarà divertente Sarà divertente Credo che sia la stradina Qua sopra Formazione del gruppo Quando sorei è l'unico umano Al suo fianco può combattere Un solo serafino Che può tuttavia Essere sostituito Nel corso Ah Ok Va bene Capito Quindi possiamo usare Sempre Micleo Leila Però Solo due alla volta Questo è un po' un problema Può essere un po' un problema Va bene Ragazzi Andiamo Vediamo la mappa Intanto Allora Apriti Mappa Grazie Dobbiamo Ah ok Va bene Ma No Queste sono le vette No Non va bene di qua Ah ok Dobbiamo andare al dungeon qua Va bene ragazzi Andiamo Andiamo subito Ok Wow Tutto più scuro Vetta dello spirito Di Rayfalk Va bene Salviamo intanto Perché Sappiamo già Cosa va a succedere In più In più Sblocchiamo Il punto Per il viaggio rapido Da quel che ho capito Intanto il monolite Va bene Leggiamo Barra esplosione Be Passiamo All'azione di battaglia Esplosione a catena Dopo una combo Di tre colpi In stato normale Consente Di tenere premuto R E di spendere Una varra esplosione Per recuperare 50 punti CS Ah vabbè Ok Una combo Vabbè Ok Ah il limite Di quattro colpi Vabbè La possiamo provare Subito Da quel Mostro Là Ho paura Per fortuna Salvato Voglio vedere Se è forte Ah è proprio Salve Allora Uno Due Ah ma era Da tre Eh ma non me l'ha Fatto fare Uno Due Tre Aia 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 Ok Chi è Aia 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 No, non lo so! Ha... ha matato? Tu bambino! Hey, era un Hellion! E Hellion appartiene in Hell! Possessi aver sicuramente lo scoperto. Non c'era necessità di matarlo! Cosa? Cosa vuoi dire che tu stai facendo l'acqua? Inoltre, morte è un tipo di salvezza. Alcuni. Cosa? Cosa? Ha 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 ha! Oh, questo è ricco! Posso sempre contare che il Sheperno in questa posse sia un sacco di due scopi, non? Tu avessi essere il Sheperno? Un chio di solito che si facevano a un Hellion. Cosa dovrebbe essere? Il nome Zavid. E' davvero piaciuto di fare tu amici, sottile Sheperno! Che riusciti! La crosta di Spirit è davvero dalla tua lega. Se un dragon fosse proprio a spire in tua direzione general, tu sarei tornato. Non siamo qui per battere i dragoni. Tante concerni è noti. Tu non? Non è divertente. Non ciò che ha spazzito a la vita come un esforzato. Penso che tu sei qui per combattere il dragone? Questo è stato il plan, sì, ma i plani cambiano. Sei vero? Si sembra abbastanza bene, non è? Zavid, cosa vuoi? Credi che potrei ripetere il Shepard e i suoi toadie nel dragone? Perchè che potessi sfruttare? Ok, ragazzi. Se ci può chiamare battaglia, ho paura. Aia. Che bello, non gli facciamo un cazzo di danno. Ok, sono le cose migliori, raga. Porca puttana. Aia, aia, non mi uccidere, per favore. Oh mio dio, mio dio, mio dio, mio one shot a questo qui. Gelatina alla mela, sì. Ok, no, metti questa gelatina alla mela. Aia, fammi andar via, fammi andar via. Trasformiamoci. Ok. Sembro OP. Wow. Che cazzo. Parati. Vieni qui. Ok, è molto forte. Ah, fammi parare. Beccati questo, non gli facciamo un cazzo. Sono convinto che forse con Leila, forse con Leila. Dobbiamo provarci. Ok. Switch è con Leila, ok. Vieni qua, a breve ci trasformiamo intanto. Grazie a Leila comunque che ci sta curando. Beh, un po' di danno glielo stiamo facendo, eh. Oh! Cosa succede ora? Wow, guarda, scusate, 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 ok? Eh, vabbè. Cosa fa uno di quei... Ah no, ok. Mi sa che voleva provare la nostra forza. Sì, sì, ci sta. Ok. Perfetto. Ok. Va bene. Eh beh. Ok. 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 Sì, sì, sì. Saree, il Shepard. Beh, ho migliori cose da fare. C'è un personaggio interessante. Però ci ha fatto capire quanto siamo delle merdine, praticamente. Quindi esiste? Non ha risposto alla domanda. Che si nutra di malevolenza? Ok. Che si nutra di malevolenza? Ok. In effetti, abbiamo una missione, andiamo. Ok. Ok. Ok, qua cosa c'è? Ok. Non sei da l'Guildo Assassino? Perché dovresti stare dopo me? Rai capito come disturbo le persone si è diventata? Con qualcuno come te riuscita a dire che sia il Shepard? Eh? Ma, diciamo, sono il Shepard! Vuoi provare il Shepard? Come se potessi! Ok ragazzi, nuovo combattimento contro un assassino stavolta, che bello. Vabbè, anche lui, sembra molto tankoso, trasformiamoci. Ok, questo ci può aiutare, questo ci può aiutare veramente. Vieni qui, ah cazzo, ma bastardo. Ok, proteggiamoci un attimo eh. Ora, ma che bastardo, ma lasciami usare una magia. Fammi usare... oh, vabbè, non vuole partire la combo con R. Che avevamo letto prima. Merda, ok. Nostro momento. Bella! Ce l'abbiamo fatta, che bello. Tanto... stupido! Dobbiamo riuscire. C'è qualcosa di oddio di questo. Tu sei vero, non sembra essere Hellenze. Decorato. Se tutto ciò, credo che stanno intenzionalmente giving us a chance di escapare. Ok, interessante, interessante. Anche gli assassini che rompono le balle. No, 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 basta. Oddio, mi inseguono tutti, che palle. Ok, andiamo, andiamo, ragazzi. Visto che... uh, qua c'è la stellina. Vediamo un po'. Che cosa dovrebbe essere? Che cosa è? Let's go. Serae, cosa succede con il tuo solito archeologico? Serae, cosa succede con il tuo solito. Non c'è bisogno di appoggiare. Serae è normalmente così preguitabile. Molto vero. Prendito che parleremo dopo, Mikleo. Col fuoco? No. E come posso fare allora? Proviamo ad andare lassù. Proviamo ad andare lassù. Perché comunque dice che è lì. Ah no, forse è sopra. Forse è sopra la stellina. Proviamo di qua, ragazzi. Ok, ragazzi. Saliamo sempre di più. Inizio a spaventarmi sempre di più. Per fortuna c'è un salvataggio. Usiamolo subito. Ingresso della montagna. Ok. Perfetto, andiamo, andiamo, ragazzi. Ho sempre più paura. Non so al perché. Ho paura di uno di quei mostri rompiballe. Oh, stellina. Vediamo un po'. Cosa è questo? È questo il Domain? Non può essere. Siamo dicendo che Malevolence potrebbe corruparire un Domain così farlo? Siamo dovremmo escapare. La entità più forte e il Domain decide la sua forma. Non ha nulla a doverlo con il giro o il giro. O il Malevolence. Ma... è proprio come con Gramps. Il Signore di questa terra deve trovare la nostra intruzione. Magettaria, arbitra di destruzione. Un Dragone. Questo è vero. Rai per noi un po' di bene. Questo è tutto il mio culo. Stavo passando le mie 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 ricordi e solo assumo che ogni parola di dragosti era facelessa. Quindi, vuoi dire che questo dragoste è una ricettiva addizione alla montagna? Non, non può essere. Sei... Edna? Oh, Edna! Non posso creerlo! Tu, un dragoste! Non, pensi di nuovo. Ok, combattimento. Perché stiamo combattendo, però? Perché stiamo combattendo? Oh, cazzo. Ok. Non capisco perché sto combattendo qui. Ok. Andiamo a unshotato. Ok, ho capito finalmente come si fa. Devo premere E e andare su fuga. Vabbè, vabbè. Non l'avevo mai visto per quello. Fuggiamo. Ah, c'è anche un... Ok. Speriamo che Leila non si faccia uccidere, vi prego. Non morire Leila, non morire. Grande Leila. Ok, scappiamo. Questa è una scuola che ti fai a fare questo dimenticato? Huh? You crave the fame of being a dragon slayer? Is that it? Edna! I thought you really had become a dragon! Thank goodness! Well, you haven't changed. People would respect you more if you actually worked on your personality. Actually, we came here looking for you. And so you marched into a dragon's territory? You guys really did go to Dumb Dumb Academy. Why you? I'm sorry. So? Was there something you wanted? Oh, yeah. I'm Soray. We need you to lend us your power. We were hoping you could make the foundation for a bridge, so it can be repaired. No. Huh? I despise Earth-dwellers. Self-centered, emotional. But when they need something, it's... Oh, dear Seraphim, heed my prayer! Heed this, morons! And besides, I can't leave my brother as he is right now. That dragon, he's your brother? Yes, that's correct. That is Aizen. He's the only family I have. But... Edna, was it? It's too dangerous for you to stay here. That's right. What do you even plan on doing? Well, I... Um... I thought there had to be some way to Kira's condition, but I haven't found anything. Well, there we go! I bet I can quell him! Seriously? Once the Seraphim has become a dragon, even the flames of purification cannot salvage them. Are you saying there's no way to save her brother? The only option I know of is to kill him. If we even can, that is. Besides, death is a kind of salvation. For some. I don't want to admit it, but... Either way, it's dangerous to be here. I won't ask you to help us after all. But you should get far away from here. I agree. This is none of your business. Look, Edna. Leave me alone. I guess her cooperation won't come so easily. We'll find some other way. The more important thing is... We can't leave her here like this. True enough. Well, then I guess we'd better go after her. Va bene, guys. Direi che per questo episodio di Tales of the Steer è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.